benvenuti in questo video su star wars battlefront è la beta come vedete disponibile missioni single player o due giocatori e multiplayer che può arrivare fino a 40 persone con walker assault però noi oggi giocheremo a drop zone praticamente c'è un obiettivo che va diciamo catturato e va difeso dalla squadra avversario che cercherà di riprenderlo e ci ho fatto qualche partita giusto per vedere un attimo com'è mi è piaciuto lo aspettavo diciamo aspettavo questa bella da un bel po perché dopo la conferenza ho detto wow sono rimasto tipo wow che cazzo di figata e mo che c'ho la possibilità di giocare ho voluto condividere le mie emozioni con voi voi già state a chiedere ma che cazzo sto dicendo allora si può equipaggiare e customizzare il vostro personaggio adesso vi faccio vedere non la pistola non puoi la pistola io voglio le 11 equipaggiamo le 11 e poi qua ci stanno le carte che sono tipo le granate questa le granate poi c'ho il cecchino che ogni 7 secondi fai r1 e c'ho il cecchino questa modalità è un po il cecchino perché la mappa è più piccola quindi è più per gli scontri diciamo diciamo più ravvicinati mentre nell'altra modalità nell'altra modalità col fatto che la mappa è enorme ci sono 40 persone il cecchino è qualcosa di spettacolare vedete il punto clay bisogna andare a prendere il punto là non c'è nessun nemico quindi forse i nemici stanno di qua appunto scusate la mira è colpa del gioco no vabbè bene oh cazzo questi stanno a sparare porca droga mi sono rinato sopra ecco appunto oh ti ho cecchino da dodo regà era uno scopo spettacolare no ho sbagliato da sto perché ho metto la granata non volevo mettere non volevo mettere il cecchino appunto la granata è r1 mi sono sbagliato attenzione da dove cazzo sparano attenzione attenzione eccolo là eccolo ucciso non si ricarica perché le armi si surriscaldano un altro ucciso ci hanno preso il coso questo qua non cosa ne siamo accorti riprendiamoci vedete bisogna difenda adesso e da dove cazzo vengono i nemici non lo so l'unica cosa che non mi piace di questa diciamo di questa mappa non so se è della mappa o è proprio della modalità è il respawn cioè voi vedete questi io avevo catturato stavo lì da solo questi io avevo catturato il coso mi sono arrivati 30 nemici miei compagni di squadra sono spawnati a 100 metri cioè io dico c'è poco tempo per riconquistarlo come cazzo fai a conquistarlo se il tempo di risponare è porca troia ma come può ricarci porca troia è una doppia non sa che ho fatto assist vedete il respawn è baffanculo a 80 metri cazzo è nostro l'abbiamo conquistato guarda dove vanno un'altra kill manco il tempo da arrivare là che già sono soppresi si fede grande bella cecchinata vi giuro che ero più forte quando hanno registrato ole vai vai prendi conquista il punto amico vai c'era un amico vedete porca puttana come cazzo faccio a conquistarlo se sta laggiù cioè non è che diciamo un tutti contro tutti che non mi risponare dietro però cazzo a 150 metri metti l'obiettivo e c'è il tempo per conquistarlo come cazzo va c'è piatto allora mo difendiamo non ci si può stragiarci si può soltanto chinare a meno che non ho ancora capito qualità di stragiarsi però mi sembra c'è sta il jetpack vedete ho detto jetpack e usa jetpack quindi se dico c'è Kino ma quanti cazzo so ragazzi ho 200 a me sa che questa è diventata la mappa da 40 questa qua non faremo una cosa troppo bella dov'è sponano quindi diciamo molto avere l'arma primaria che è il mitraglion della mitragliatrice c'ho pure il cecchino perché è diciamo è l'l1 pop captured si dai l'abbiamo conquistato laggiù c'è il nemico eh però c'ho poca visibilità eh attenzione attenzione vedo i due colpi ma non vedo il nemico eccolo lì kill kill ve l'ho detto questo vabbè dai cazzo l'avevo preso quello là dai eh un altro ucciso dai dico la verità ho pagato gli nemici per farsi fa uccida almeno si facevo un video con tante kill no non è vero ci mancherebbe aspetta aspetta che vengono da là tira una granata doppia doppia ce ne sta un altro eh cazzo la vita si risponde in 30 secondi in manco due secondi mo l'unica volta che mi eserbia in così subito half fly col cazzo lo cazzo sta eccolo morto dai abbiamo fatto un achievement poi è figa la cosa non so se avete eh beh non so se voi l'avete giocato comunque sia quando fai la modalità da 40 ci stanno tipo per terra delle cose quando premi quando le prendi da per terra diciamo premi L1 R1 contemporaneamente eee e ti da tipo che ne so una bomba e fa ffff ffff che fa tipo ffff che ti risucchi e poi esplode eee invece poi ci stanno tipo che ne so per prendi siccome ci stanno la modalità da 40 aspetta ho sbagliato a tirare la granata ve lo fa un'altra oddio ho ucciso un nemico con la granata sbagliata mamma mia poi veloce mi riattaio veloce chi ne ha quello però cazzo ho ucciso quello con la granata sbagliata ecco ci stanno tipo non so se avete visto il fulminetto ci stanno tipo pure le navicelle nella mappa siccome la mappa 40 stanno appunto si possono utilizzare le navicelle prendi questo cosa da per terra forma di navicella premi L1 e R1 e ti metti al comando della navicella appunto vai vai olè olè non so quanti ne ho uccisi ma regalo sto a fare una strage olè no no quello non l'ho ucciso io dove sta no andiamo a piar airpot airpot mamma mia sta a fare panico no si dice 8 se lo prendo magari è pure meglio c'è ragione ma hai ucciso grazie ho sbagliato io errore mio ah poi si può mettere la terza persona così però sinceramente io personalmente riesco a giocare in prima persona di spargatutto però magari tipo appunto quando devi volare è meglio fare le manovre in terza persona secondo me poi sono cose personali però io la vedo così che se no non ci capisci in cazzo e continua a sbagliare il tasto regalo scusate ma io sono convinto che fino a ieri ce l'avevo il tasto su R1 la granata poi essendo abituato a code guarda quanti cazzo sono che atrota che atrota ehi con la granata essendo abituato comunque stavo dicendo accolte che quando hanno messo che quelle due R2 si mi lesse spare quindi con R1 sono granata perché io con la play 3 ero abituato a sparare con R1 allora penso che la R1 uguale granata guarda come sta il camper schifo dai che abbiamo conquistato pure questo siamo troppo forti yeeeh abbiamo rotto il culo abbiamo rotto il culo new pod incoming dai dove cazzo stai mi nemici pensavo che sponassero di là e invece tutti su hold oh no ce l'avevo dietro sei a me da dietro mi è ciso ti aiuto io ecco questa è una cosa che potrebbe far rotere altamente il culo al nemico perché cazzo io sono sponato in faccia ma vabbè questa cosa è infatti boh raga non so perché comunque sia io sono sponato sul partner cioè se lo sapete era tipo una cosa troppo epica però se fosse successo a me diciamo avrei sbloccato avrei fatto che cazzo da dove esce porca roia gioco di me avrei fatto sicuramente così avrei rossicato una cifra vabbè qua noi abbiamo conquistato pure quest'altro victory se uuu 19 e 11 3370 boh accanto mio fratello riccardo grazie riccardo che hai scaricato star wars e mi ha fatto fare il video si dai raga oh più kill di tutti si popo fiero si più rank 4 vediamo se saliamo di livello ma non penso proprio no non saliamo di livello dai 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 thanks for playing the beta of star wars battlefront oh mio dio ma che pronuncia era fede raga faccio il linguistico modestamente la lingua la posso pure però vi dico la verità ho imparato a giocare al computer parlando inglesi e vabbè raga questo era la modalità drop zone di star wars battlefront spero il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se volete iscriverti al canale se volete condividere il video luke sono tuo padre mazza bella voce ci ha provato e se volete condividere il video ci vediamo prossimo video ciao